La famiglia della pittrice turinese Margherita Senis, nata a Torino nel 1921 e deceduta all'inizio di quest'anno, ha donato al Consiglio regionale il dipinto Olio su tela, 40x50, intitolato 1861-2011, Torino capitale, 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, e la coppa con cui l'artista ha vinto il primo premio del concorso Il Cavalletto. Hanno ricevuto l'opera dalla signora Serena Senis e dalla nipote Carlotta Miroglio, il presidente dell'Assemblea Mauro Laus e il consigliere segretario Angela Motta.